Bruno Italia scende in campo al fianco della nazionale italiana di Rugby. Bruno è da sempre presente nel mondo dello sport attraverso il suo impegno in Formula 1, in Formula elettrica, nei rally e in pista, aggiungendo un'altra tessera al puzzle che compone il DNA sportivo della marca. Sport automobilistico, ma non solo. Il Rugby è passione, spirito di squadra, tenacia, forza, gli stessi valori che guidano Renault nell'attività quotidiana per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. E ancora, il forte spirito di aggregazione e il sano agonismo che rendono il Rugby unico nell'universo sportivo, uno sport fatto di tradizione e di antichi riti, di condivisione e sostegno per vincere ogni sfida. È importante avere una relazione con qualcuno ambitioso e anche una grande brand. e penso che per i nostri giocatori è una grande cosa per il loro test anche perché è una grande brand con grande ambizione e sempre crescere e vincere e questo è un'importante cosa. Bruno scende in campo accanto alla nazionale italiana di Rugby anche nel torneo sei nazioni, in programma a partire dal 5 febbraio il più prestigioso torneo continentale di Rugby a 15. Al corredo della partnership una strutturata campagna di comunicazione vedrà protagonisti, gli azzurri e il commissario tecnico e avrà inizio con un contest online. Il contest si chiama il sedicesimo uomo. I vincitori avranno la possibilità di vivere una giornata come se fossero un vero giocatore della nazionale. Dal 20 febbraio fino all'8 marzo e scrivendosi al sito passionforrugby.ono.it si potrà rispondere ad una domanda che testerà la propria conoscenza del mondo del Rugby. Tra coloro che risponderanno correttamente saranno tre i fortunati che vinceranno due biglietti ciascuno per assistere al match del sei nazioni, Italia, Francia ed un pranzo in compagnia degli azzurri il giorno precedente. La partnership con la Federazione Italiana Rugby si concretizza anche attraverso la consegna di una flotta composta da 31 veicoli dell'intera gamma Renault, le due amiraglie, la Renault Talisman e la Renault Espace, che saranno utilizzati dallo staff tecnico della nazionale. Passione, tenacia, spirito di aggregazione, la nazionale di Rugby italiana e Renault vanno insieme a Meta. Grazie a tutti!